e bentornati in questo nuovissimo video cioè ciao a tutte colpette bentornati in questo nuovissimo video allora oggi siamo qui perché vi volevo far vedere come si fa una cosa di caccia vai allora oggi vi volevo far vedere come fare questa faccia qui di caccia non tutti hanno la possibilità ok ma chi ce l'ho può farlo allora prima cosa dovete andare su presence ok andiamo allora scusatemi su body poi dovete schiacciare io schiaccio qua tipo nove volte però alcuni schiacciano qua tipo tre volte e nessuno quasi tutti c'è alcune persone non hanno non posso non hanno il consenso cioè non possono fare ad ad 9 invece va bene c'è sempre uno quindi ora vi vi faccio vedere come si fa vamos ok prima di tutto andiamo su google safari che ha l'iphone e google che ha l'android ok dobbiamo cercare gaccia life 0.01 ok aspettate io l'ho installato da qua e io di solito prendo sempre la prima non so perché no se no la seconda no no questa no dovete vedete vedere che c'è scritto 0.01 eccola qua non so perché è scritto narbo ma va bene voi fate qualunque cosa basta basta che c'è scritto 0.01 poi fate install ok ok ce l'ho fatta ok ho trovato un italiano allora sono su aptoid ovviamente sempre su google e qua ci sono tutte le varie tutte le varie versioni di di gaccia noi dobbiamo andare su questa qui ok però qua non c'è quindi io faccio un attimo ok e faccio una scarica ok e mentre sto file si 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 fa noi aspettiamo e facciamo scarica comunque io già ce l'ho installato quindi non lo voglio installato quindi allora poi aspettiamo e eccoci ok io un attimo vado su archivio e faccio file ecco qua e ci ritroviamo questo noi dobbiamo fare questo qua il primo che ci ha dato ok poi io di solito fatto con questo e questo sconosciuto tra virgolette vi dice app in preparazione a me mi dà l'aggiornamento perché eh perché io già ce l'ho installata comunque voi avevi da un'altra cosa e fate installa ok io faccio nulla e installa e poi eh mi lascia e poi appunto avete capito e ve lascia dovete aspettare e poi vi installa guardate ecco io ancora questa qui appena mi è arrivata e aspetta 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 ok e dopo aver installata vi dirà se il file si è riuscito ad installare oppure no se no allora dovete provare qualche altra parte ok qualche altra file secondo me ora mi dice app non è installata perché io già ce l'ho installata e la vecchia versione pure quindi a me mi dirà app non è installata però è normale per me perché io già ce l'ho aspettiamo intanto io vado un attimo fare una cosa e arrivo subito ok ragazzi finalmente ce l'ho fatta però mi da apptoid perché io già ce l'ho vabbè mi da apptoid perché dovete installarlo qua la versione ok se fate da apptoid dovete installarlo qua e ehm fate tutto e dovete riaspettare ok dopo quello dovete riaspettare ah vabbè vabbè avete capito quindi io ora ok ragazzi aspettate un attimo che lo disinstallo perché forse avete capito il processo ok dopo aver avuto la vecchia versione di caccia poi allora voi trovate i personaggi quelli lì questi qua questi qua eh li trovate senza niente senza niente e che questo qui è uno e un bene cosa dovete fare voi dovete schiacciare qua ok qua fino a 9 vabbè se volete non è il mio problema perché tipo se volete fare la faccia buffe fate così oppure così vabbè ci sono solamente 5 vabbè io metto ancora il mio e così potete e poi e poi 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 avrete molte più cose tipo gli occhi avrete ad esempio questo 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 capito non c'erano e vedrete qua che non ci sono due altre occhi più importanti no no perché li hanno messi qua questo questo e questo questo è bellissima la versione perché è veramente fantastica poi vi da tipo nuove bocche ok che nell'ultima versione ci sono ad esempio questa così ok poi poi qui no c'era però ve le danno più grandi ok così potete fare i vostri caccia più belli ad esempio questa che non c'era capito e quindi e quindi mi sono due cose bellissime questa 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 non so perché li hanno tolti comunque e vi daranno anche nuovi vestigini vestiti di maglietta tipo questo questo ah e potete tipo questa maglietta tada tada del colore della pelle del vostro caccia non è forte questo bellissima ma meglio la vecchia versione che la nuova veramente fantastica e poi le gonne ci dovrebbero no 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 non è diventata ad esempio questo pantalone che ho io non è più come l'altro è diverso è diventato così tipo questa che è sempre quella cosa questo questo che aveva l'ambra quindi così a me piace moltissimo questa versione mi piace veramente un voto ragazzi non ho capito quanto è bello perché io la desideravo da moltissimo 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 tempo finalmente se l'ho ok oh cavolo mi viene un infarto già che si è fatto un graffio ok quindi voglio altri graffi e questo era il tour di come fare questa fase e come installare la vecchia versione e niente questo è tutto e ci vediamo un altro video in un altro video ciao ciao